Il mio stile di fumetto prende spunto soprattutto agli inizi della mia carriera nella linea chiara francese. Nel tempo, anche grazie alle varie proposte professionali Dylan Dogg, ESP e fumetti di questo tipo, sono dovuto giocoforza passare ad atmosfere un pochino più cube, quindi abbandonare il famoso disegno in linea chiara. Passando alle atmosfere horror, praticamente ho dovuto affrontare qualcosa che inizialmente sembrava inedito per me, in realtà durante il periodo scolastico, soprattutto nel disegno dal vero, abbondavo con il nero, quindi mi è venuto abbastanza naturale. Dylan Dogg per esempio mi ha dato la possibilità di sperimentare questa tecnica, questo discorso che facevo prima della linea un pochino più scura, un pochino più all'italiana, argentina per intenderci e quindi è chiaro che le atmosfere danno un valore aggiunto al fumetto nostrano. Da quando ho iniziato a fare questo lavoro chiaramente un pochino l'approccio è cambiato, all'inizio era tutto esclusivamente divertimento, insomma era una scoperta continua, era uno sperimentare, chiaramente nel tempo poi le esigenze editoriali, ma anche personali, insomma hanno chiuso questi spazi, quindi diciamo che è diventato molto più consapevole, molto più disciplinato e rivolto appunto ad una produzione costante. Questi sono un po' gli esempi del mio lavoro, io stranamente utilizzo le matite colorate acquarellabili per dare una base, diciamo come dire, omogenea al disegno o per poi utilizzare sopra acquarelli o comunque colori materici, soprattutto il bianco e tempera soprattutto, perché al contrario dell'acrilico consente di tornarci sopra e diciamo di interagire con il colore che diciamo aggiungo successivamente. Faccio moltissime velature, questo per esempio è fatto completamente con la matita acquarellabile, c'è un po' di acquerello qua e là, ma fondamentalmente il viso è quasi tutta matita acquarellabile.